Giardino Norma Cossetto. Norma Cossetto era una studentessa italiana che è un po' la figura principale delle foibe. Quando si pensa alle foibe è naturale pensare a lei. Morì giovanissima, a 23 anni, era una ragazza estriana, studentessa universitaria. Subì molte violenze da parte dei partigiani di Tito. Alla fine fu gettata in una foibe e morì nei primi giorni di ottobre del 1943. Siamo nel giardino all'intitolato a Firenze e abbiamo l'onore di poter intervistare un reduce dell'esodo. Ormai di esuli veri e propri ne sono rimasti pochi purtroppo, perché naturalmente i decenni vanno avanti, la storia passa, gli anni passano e quindi sono sempre di meno. Però noi lo abbiamo qui, abbiamo Claudio Bronzin che dimostra anche di essere più giovane rispetto all'età che ha, non diciamo gli anni. 87, via. 87 anni. Arrivarci alla sua età veramente ci metterai la firma. Grazie mille signor Claudio di essere venuto qua. Entriamo subito nell'argomento e parliamo di quel periodo. Lei era un bambino, quindi con gli occhi di un bambino come si viveva quel tempo tra fascismo, guerra e titini? Ma fascismo io l'ho percepito poco a Pola, perché a Pola di fascismo non ce n'era un granché. Anche noi di famiglia non eravamo fascisti, avevo un nonno che era un antifascista. Praticamente quando arrivavo a un general Canova a Pola lui veniva messo in questura qualche giorno perché era un socialista storico della città. Comunque io ho due episodi che mi ricordano benissimo il fascismo, sono gli unici più importanti. E uno è il primo giorno di scuola della seconda elementare. In seconda elementare il primo giorno mi presento e accanto a me, miei compagni, due ragazzi vestiti da figlio della lupa. Per un ragazzo a vedere due vestiti da figlio della lupa è la prima cosa che ho fatto tornando a casa, ho chiesto a mio padre, lo voglio anch'io, quella divisa. E mio padre mi ha detto in istriano, se non te la fai finita ti dà con sciaffo quel muro e te ne dà un altro. Lui diceva sempre così. Praticamente non se ne è potuto mai parlare ed era il primo episodio. Il secondo fascisti erano, ma per conto mio, molto importati perché per esempio vicino a casa mia è stato ucciso un certo Ottone Nicolini, capo del fascismo di Pola, che era un fiorentino importato. Era venuto apposta come capo del fascismo a Pola, infatti era sempre scortato anche dai tedeschi, dai fascisti e lui è stato ucciso ed era un fiorentino. Questo sul fascismo. Sulla guerra, la guerra vera e propria, cioè la guerra di trincea, a Pola non c'è stato. Però c'è stato delle cose molto più terribili perché abbiamo avuto 23 o 24 bombardamenti con le fortezze volanti. Fortezze volanti di 100 aerei che bombardano una città di 30.000 abitanti. Voi pensate, solo al primo bombardamento sono morti 200 persone. E quella è la guerra che ho visto io. Fino a che poi sono arrivati i titini. Arrivati i titini, noi abbiamo perso la guerra, ci hanno invaso e la città è stata per 40 giorni soggetta alle... hanno rubato quello che hanno potuto. Tutti i viveri, pochi, che c'erano perché è una città che avevamo finito la guerra da pochi giorni. Quindi hanno portato via tutto. Anche i mobili, i letti delle ospedali hanno portato via in quei 40 giorni perché sapevano di dover andare via. E quindi tutto. E più che altro la fine dei 40 giorni è successa una cosa che la gente sapeva, ma abbiamo conteggiato gli uomini che mancavano. In quei 40 giorni sono spariti da pochi 940 uomini portati via dai titini e di questi solo 47 sono tornati. Gli altri sono stati, non si sa, poi beh, affogano, boh, non si sa. E questa è l'immagine che ho dei titini. Poi gli inglesi, sono venuti gli inglesi, siamo stati bene con gli inglesi fino ad arrivare alla conclusione quando è stato deciso che Pola diventava Jugoslava. E allora la città tutta si domandava cosa facciamo adesso. E abbiamo deciso in massa al 95, forse 98 per cento dopo la strage di Vergarolla. Ecco, arriviamo proprio alla strage di Vergarolla perché lei è stato proprio testimone di questa strage e purtroppo c'è stato anche un lutto in famiglia. Sì, io c'era a Vergarolla, tutte le famiglie bronzine andavamo sempre insieme al mare e anche quel giorno eravamo a Vergarolla. Mancava solo uno zio, lo zio Giuseppe. Su quelle, diciamo, mine, ma erano dei cilindri, erano delle cariche esplosive che erano servite per chiudere l'imboccatore, legate a Catena, per chiudere l'imboccatore del porto di Pola. E questi, io ci ho giocato anche sopra perché noi pensavamo fossero inoffensive, cioè vuote. Era sì dei residui militari, bellici, ma chi pensava che lì c'erano tonnellate di esplosivo lì dentro. E ci ho giocato, i miei genitori, mio padre, tutti i genitori ci hanno fatto giocare e nell'ora di pranzo mi sono allontanato da quel punto, andando a mangiare con i miei genitori ed è esploso tutto. Esploso tutto e lì ho perso 20 amici. Una zia, che era più vicina agli esplosivi, e altre tre zie rimaste ferite e rovinate per tutta la vita, purtroppo. Quindi a quel punto tutti i morti sono da 110 a 116, perché 64 sono riclamati e ritrovati. Gli altri sono stati polverizzati. Voi pensate, 9 tonnellate di esplosivo, cosa possono fare? A quel punto la città ha dovuto decidere, tutti. Se prima erano in dubbio, andiamo via, restiamo, anche se via in Tito, ma se stiamo tutti qua, diventiamo jugoslavi, ma siamo sempre italiani. A quel punto la città non ha avuto più dubbi e siamo partiti al 98% di persone. Siamo partiti e è deciso per l'esodo. Ecco, a proposito di esodo, che cosa si ricorda di quei giorni, del viaggio, delle varie tappe che la sua famiglia ha fatto e che lei ha fatto? E poi perché è stato scelto proprio di arrivare a Firenze? E' quella la cosa più buffa che ci sia. Dunque, l'esodo è stato organizzato dall'Italia, anche con l'aiuto dell'Italia. L'Italia ha mandato una nave molto grossa, il Toscana, che ha fatto 11 viaggi, mi sembra, portando 1.500 persone alla volta. A noi invece ci hanno mandato via con la nave di linea, era la motonave Pola, che faceva servizio Pola-Trieste. Quindi la mia famiglia siamo andati a Trieste. Nel frattempo era nato un mio fratellino, io l'avevo in braccio, aveva 40 giorni quando abbiamo fatto l'esodo. E a Trieste siamo stati accolti al centro di raccolta profughi ed era guidato dagli americani, dalle truppe americane. E qui c'è stata una scena che mi ha disgustato e me la ricordo ancora. Hanno preso mio padre e mia madre, hanno preso il bambino che aveva mia madre, me l'hanno messo a me, il mio fratellino in braccio, e hanno spogliato letteralmente mio padre e mia madre e li hanno irrorati di DDT, come se fossero piene di pulci. E mi ricordo ancora mia madre che cercava di nascondersi le parti intime, davanti a me, al figlio, ero 12enne. Quindi siamo stati riuniti a Trieste, mi sembra vicino al porto, nella parte vecchia del porto di Trieste. E lì ci hanno tenuto 3 o 4 giorni, non ricordo quanto, gli uomini dalla parte e le donne dall'altra. Fino a che poi ci hanno messo in un treno, con un vagone, agganciato in un vagone di linea, a un treno di linea e ci hanno mandato, questo andava verso il sud, ci hanno mandato alla nostra città, Trieste e Firenze. Nostra città. Io sono venuto a Firenze per caso, perché quando bisognava decidere dove andare, ci hanno fatto portare anche da Pola un po' di mobili, qualche mobile, e a mio padre avevano assegnato una parte di un vagone ferroviario per portare via i mobili e mandarli alla nuova destinazione. E quando il ferroviario gli ha chiesto i mobili dove vanno, signor Bronzini, questi mobili, mio padre non si era ancora fatto mentalmente l'idea di dove andare. in Italia, lui ha detto in Italia basta, lui pensava all'Italia. Il ferroviario gli ha detto guardi che l'Italia è grande, io devo scrivere una città, una località, un indirizzo. Mio padre me lo ricorda ancora, ho visto la prima volta mio padre sbilanciato, non sapeva cosa dire a quest'uomo che giustamente reclamava una risposta. fino a che a un certo punto gli è partita questa, lei mi manda questi mobili nella città italiana più lontana dai confini. Il ferroviario aveva da fare, l'ha messo di tutto, ha preso il biglietto e ha scritto Firenze. Ecco chi ha deciso là, il futuro della mia vita, della mia famiglia e di tutti noi, almeno per me. Ecco, durante il viaggio lei ha appena detto che aveva il fratellino molto, cioè di pochi giorni. Ha subito le scene che vengono raccontate, per esempio della stazione di Bologna dove veniva rovesciato il latte oppure è stato più fortunato? Non solo a Bologna, a ogni stazione stranamente c'era un picchetto che appena c'era segnalato un vagone con la scritta Profughi, questo picchetto di manifestanti bloccavano e io mi ricordo che io avevo bisogno di cercare il latte per il mio fratello perché mia mamma purtroppo con l'esodo aveva perso il latte e non c'è stato verso di averlo. Solo mi sembra a Ferrara sono riuscito ad avere un po' di latte perché sia a Mestre dove ci siamo fermati, era di linea il treno, sia a Mestre che a Padova, a Bologna non ne parliamo nemmeno, non c'è stato verso di avvicinarsi a quelle donne della Croce Rossa che erano vestite, si facevano vedere, avevano le bidoncini di latte per i bambini e anche del pane per i profughi, ma non ci facevano avvicinare. Ecco io a Ferrara sono riuscito a raccattare un po' di latte, ma poco perché poi l'hanno rovesciato il bidone sul treno e mio padre dal vagone mi chiamava vieni via, vieni via, aveva paura che subissi qualcosa perché lui guardava dal finestrino. Ecco, solo a Ferrara. Mio fratello a quei tempi da Trieste a Firenze non erano tre o quattro ore di viaggio, erano molto di più. Mi ricordo che siamo partiti di mattina, siamo arrivati a buio a Firenze e per fortuna dopo Bologna, prima di Bologna, una signora di un vagone che ci precedeva stava allattando un bambino e allora ha dato un po' da mangiare a mio fratello e quello lo ha calmato perché stava piangendo. Quindi con l'episodio di Bologna io non l'ho visto perché era per quel treno apposito da cui erano scesi dalla motonave toscana, quindi non l'ho visto. Però a Bologna anche lì noi siamo... perché purtroppo viaggiavamo su dei treni dove ci mettevano dei cartelli profughi giuliani e quindi eravamo oggetto mira dei faccino rosi, eravamo boicottati. Ecco, poi però c'è stato l'arrivo a Firenze, che cosa si ricorda di quei momenti proprio dell'arrivo a Firenze, com'è stata l'accoglienza di Firenze e dei fiorentini e poi come si è sviluppata la storia della famiglia Bronzin. Dunque mio padre era un commerciante, aveva un negozio a Pola, quindi ha buttato via la chiave e buonanotte. Quando siamo arrivati a Firenze ci hanno messo per qualche giorno all'hotel atlantico in via nazionale e poi da lì ci dovevano destinare e bandare in un campo profughi perché i campi profughi a Firenze erano tre, uno grosso via Guelfa, poi c'era una chiesa sconsacrata in via Palazzolo e più tardi è venuto anche il via della Scala, il campo profughi della Scala dove c'erano anche dei profughi greci. Quindi noi ci hanno messo nell'hotel atlantico e dopo pochi giorni volevano metterci nel campo profughi, però mi ricordo che mio padre nel frattempo aveva trovato un appartamentino e ha trovato questo appartamentino e quindi ha detto guardate è inutile mi mandate là e io ho avuto la fortuna di non vivere nel campo profughi, anche se poi per andare dagli amici ero sempre in via Guelfa dagli amici, anche perché mio padre poi lavorava nel mercato San Lorenzo, aveva trovato lavoro lì come banconiere e quindi ero sempre dagli amici che erano in via Guelfa e più che altro parlavano come me il dialetto veneto, perché noi parlavamo e parlo ancora io il dialetto veneto. Quindi l'accoglienza nel campo profughi io non l'ho avuta, però abbiamo avuto, mio padre più che altro ha avuto dei problemi, perché mio padre dopo un anno, un anno e mezzo che eravamo a Firenze aveva due lire in tasca e aveva trovato un piccolo spaccio dentro il mercato, l'ha comprato e subito ha portato la sua licenza di negozio alimentari all'assessorato al comune di Firenze, l'ha rifiutata, perché dice c'è il fascio, si vedeva il fascio e non gliel'hanno accettata, quindi mio padre è rimasto, se non che poi si è ricordato che chi gli ha venduto lo spaccio gli aveva proposto anche la licenza, che a quei tempi costava, però mio padre non aveva i soldi, allora se li fate prestare in giro da qualcuno è riuscito ad avere questi soldi, 30.000 lire ricordo, e con queste 30.000 lire ha preso la licenza, quando questo gli ha dato la licenza dice no fermo, qui di fasce ce ne sono due che si guardano uno con l'altro, allora dice va bene, si ma Fiorentina va bene, e allora mio padre l'ha presa, però dice prima vediamo, quella l'hanno accettata, quella di Pola con un fascio no, quella di Firenze con due fasci sì, ecco quindi mio padre come accoglienza non ha avuto, mentre io ecco come ragazzo ho avuto la fortuna anche nel mio rione, perché avevo il pallone di calcio di cuoio, allora i miei amici ero coccolato da tutti, ma io ho avuto degli amici che ancora oggi ho, ora uno il più grosso se n'è andato l'anno scorso, abbiamo una certa età, e con l'accoglienza nostra è stata questa, io ho avuto grossi problemi con la scuola, perché durante la guerra, bombardamenti, si viveva sempre nelle gallerie noi, poi dopo nel 45 qui la guerra è finita, lì è cominciata la questione di Tito e tutto, fino al 47 io ho 4 anni e non ho fatto niente, quindi quando sono entrato alle scuole a Firenze ho avuto dei grossi disastri, perché io non sapevo niente, io scrivevo in dialetto veneto i temi, e ho avuto dei grossi problemi che poi ero faticando, faticando, e anche aiutato dai stessi professori della mia classe, ci facevano ripetizioni gratis quasi, a me e un mio amico sempre di Pola, e l'abbiamo superato, poi pian piano mi sono, dopo due anni di bocciature, mi sono diplomato e ho preso il titolo di geometra, cosa che ho fatto anche nella vita. Ecco, per decenni la storia dell'esodo, delle foibe, è stata nascosta, quasi messa sotto un tappeto, come ha vissuto lei da esule questa cosa? Non se ne parlava, non se ne parlava perché ti spacciavano di fascista, ti spacciavano di... e noi non eravamo fascisti, tutt'altro, perché la mia famiglia poi assolutamente, mio padre non è mai stato iscritto al partito, quindi assolutamente no, però bisognava star zitti perché altrimenti ti trovavi ostaggiato in tante cose, poi c'era un silenzio andante, io, per esempio il mio fratello che nel frattempo, quello che aveva due mesi durante l'esodo, che nel frattempo è cresciuto, lui per esempio in casa parlava il dialetto Veneto come noi e lui disperatamente voleva sapere qualcosa e mio padre non voleva dirglielo perché gli diceva, ma non voleva dirgli le tragedie che ha dovuto vivere quest'uomo, portare via la famiglia, s'arradicarlo, partire senza sapere dove andare, capito, e lui non ha mai voluto parlare di questo con mio fratello, se mio fratello ha saputo qualcosa, lo ha saputo da me, perché io gliel'ho raccontato qualcosa, era un silenzio da parte di tutte le parti, anche dalle autorità, alla radio non bisognava parlarne, alla televisione hanno cominciato a parlarne ora da un po' di tempo, quindi c'era un silenzio generale, ora se ne parla da un po', se ne parla, infatti io ho cominciato a girare il giro anche l'Italia, vengo chiamato come testimone, perché ho visto anche a Vergarola, c'ero, ho giocato su quei maledetti cilindri che poi sono esplosi, ho cominciato da poco, perché prima bisognava, era attenuato, vuoi fare qualche manifestazione, vuoi fare niente, ora invece sono stato anche convocato due anni fa al Consiglio Comunale, ho parlato il 10 febbraio al Consiglio Comunale di Firenze, ma io ho girato tanti comuni d'Italia, addirittura due o tre anni fa a Cascina sono andato a parlare quasi per caso, mi ha dato un amico che non poteva venire e mi sono trovato insegnato di cittadino onorario di Cascina, mi hanno dato la cittadinanza di Cascina, quindi se ne parla da poco. Con l'avvento dell'Unione Europea sono caduti i confini, la Jugoslavia precedentemente si è smembrata, sono nata in Slovenia, Croazia eccetera, poi dopo sono entrate nell'Unione Europea, ha mai pensato di tornare a vivere a Pola? Ormai no, eravamo… io mi sono sposato a Firenze, sono 75 anni che abito a Firenze e anche 20 anni fa ormai lavoravo a Firenze, avevo il mio lavoro, quindi tornare a Pola in Jugoslavia poi assolutamente no, anche perché a Pola sono rimasti qualche italiano, ma mica pochissimi, quelli che sono rimasti sono i figli di Polesani e quindi insomma ormai Pola ormai è diventata a Jugoslava. C'è un gruppo, c'è un circolo anche italiano che quando noi facciamo le riunioni andiamo a Pola e ci ritroviamo con loro, ma io personalmente qualcuno è tornato, qualche mio amico è tornato, anzi io ho un amico che vive sempre in Italia però ha comprato la casa e lui sta sul mare a Pola fisso, da marzo fino a settembre, ottobre. Io avrei potuto fare quello però con i genitori anziani, mia mamma mi ha dato i suoceri e non ho pensato di rientrare, no. Anche perché Pola così non la conosco più, ci vado, ci sto volentieri, ho la tomba di famiglia mia che sono riuscito a riconquistare, l'avevano venduta la mia tomba, vado tutti gli anni a rimetterla a posto, prima andavo anche 3 o 4 volte l'anno a Pola quando ero più giovane, perché 540 km che ci sono da Firenze a Pola non mi fanno fastidio a guidare ancora oggi, però ora per esempio quest'anno non sono potuto andare perché mia moglie non è stata bene, quindi andare diventa difficile. Ormai avevamo tutto quanto qui a Firenze, quindi l'abbiamo mantenuto. Un'ultima domanda, si sente più polesano o più fiorentino? Dunque io mi sento fiorentino ma penso in polesano, penso in polesano, la mia città è Pola, penso in dialetto istriano, veramente. Io ora parlo così con lei ma potrei parlare in dialetto perché io quando vado a Venezia in queste zone parlo in dialetto, sono in un gruppo di un'associazione a livello mondiale, i fratelli della costa, quando fanno le riunioni a Venezia vado lì e parlo con loro, io parlo in dialetto, perché io parlo e penso in dialetto. Sono fiorentino perché vivo a Firenze, giustamente è una bella città e tutto, ovviamente la mia città è Pola. Però non è che non ci avrei vissuto, forse ho fatto bene a rimanere qui perché lì poi con quel regime non era possibile. Io ho avuto degli amici, ho avuto dei parenti lontani che sono rimasti e mi hanno raccontato anche sulle votazioni per esempio. Le votazioni si addirittura, questo me l'ha raccontato una persona, gli davano un pallino e c'erano due urne, praticamente due cesti, contro Tito o a favore di Tito, davanti a tutta la commissione che segnava. Ha votato questo, bene contro Tito, quella era finita, era una democrazia un po' particolare. Ora stanno un po' meglio, ora con la Croazia stanno un po' meglio, anche se a noi per esempio ci tengono molti che hanno un po' non siamo ben accolti. Solamente degli amici e si va a Pola difficilmente si sente parlare Veneto, però si parla. Ho qualche amico che ha veramente del cuore ancora a Pola. Però sono fiorentino, via. Bene Claudio, io la ringrazio veramente di cuore per questa importantissima testimonianza, però le chiedo un'ultima cosa, di farci un bel saluto in dialetto, di salutare tutti gli spettatori col dialetto polesano. Il dialetto polesano, se gli spettatori sono di Pola posso dire ciao muli, se vedremo e poi per gli altri dico ragazzi buona serata, vi ringrazio dell'attenzione. Vi ho parlato di una tragedia, una grande tragedia alla mia famiglia perché più che altro io penso a mio padre in tutti i momenti che è stato, ha dovuto decidere, prendere decisioni quasi incredibili. Per esempio tra le decisioni che ha preso è quella di non sapere dove andare addirittura. però ecco, vi saluto corralmente da fiorentino che parla e pensa polesano, un po' in dialetto. Grazie. Grazie a tutti.